Cosa? No! Non mi dire che l'hai lasciato bello! Quante volte te l'ho detto che sei... Ma che cosa? Mia sorella ha lasciato partire suo figlio con quella talla di idioti per l'India! Ho capito, ma calma un attimo, che sono questi idioti? Quelli, i cosi, gli arancioni! Ah, vabbè, ma cosa che il tuo riposo ce l'ha a queste cose? Magari ce l'ha avuto danno a lui, no? E allora bastava che lei glielo proibisse! No, ma adesso avvisa queste proibizioni, però! E poi scusa, ma fammi capire una cosa! Ma devi sempre decidere quello che è bene e quello che è male per la gente! Se è una cosa che può coinvolgere anche gli altri, scusa, sì! Ma poi lo sai quanti soldi sono finiti in quell'ascima? No, no, no! Lo sai che quel santone è scappato con la cassa? Ma ha fatto bene, si ha sputtato gli imbecilli come a tutti voi! Ma guarda cosa ti dico anche io, ha fatto bene! Ma allora perché stiamo a parlare? Stiamo a parlare? Ah, sì, sì! Del fatto che se tuo figlio è scemo gli devi proibire di dominarsi la vita con le sue mani! E certo! Ma dice, ma provate a abbracciare lo tuo riposo! E c'entra adesso! E c'entra! E invece c'entra! C'entra perché pure te fatele pazziavità! Ora so perché quell'altra ragazzina c'è la patente da malata! Ma intanto mia nipote non è malata! Mia nipote non dente! E va bene! E la religione non è una malattia! Casomai ho l'idea erronea! Ma chi ne sa di che... Ma chi ne sa di che erronea? Ma chi ne sa di che erronea? L'altra sera da Ferrara... Ferrara è il male! Ferrara! 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 Per me è il male assoluto! Ferrara! Stop! Stop! Oh, adesso è forte! Vabbè, ma che ci parla a fare con te? Tanto più siete sinistra più state fuori dal mondo! E certo! Sempre a critica a tutti e a rifiutare del buonezio male! Lucrezio! Lucrezio ha fatto bene a non fare l'isola dei famosi! E' un patto di figlia! Fatto benissimo! Ma ha fatto benissimo! Ma sei paura che vanno trezio? Ma tu lo vuoi capire o no? Che i soldi non contano niente! E certo! E' facile per te che ci ha sempre avuti, no? No! E' la giustizia che vuole così un po' per uno! Un po' per uno sto cazzo! La giustizia è fatta per quelli che stanno sopra che vanno che i pauri si accontentano! E' un attimo! E' un attimo! E' un attimo! De che? S'accontentino con la I! E' un attimo!